Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Benvenuti al Meteo, previsioni per lunedì 21 agosto. Sul Veneto tempo in prevalenza soleggiato, salvo possibili annuvolamenti sui rilievi a partire dal tardo pomeriggio. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra i 20 e i 25 gradi, massime tra i 33 e i 37 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia tempo stabile con prevalenza di cielo sereno, precipitazioni assenti. Sulla costa soffierà Borino. Temperature oltre le medie stagionali, con minime tra i 22 e i 25 gradi, massime comprese tra i 33 e i 35 gradi. Sul Trentino Alto Adige è previsto tempo molto soleggiato con assenza di nubi. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime intorno ai 21 gradi, massime comprese tra i 35 e i 38 gradi. Dal Meteo è tutto. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi. Guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7. Via Vicenza 23. Vede Lago.